salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui su fc2 e con noi c'è anche una mia cara amica giovanna bella a tutti oggi sarà lei ad affrontare un match e andiamo subito a vedere scegli tu cioè sei tu l'ospite va bene però abbia avverto non sono molto brava non fa niente niente allora vai vediamo un po categoria facciamo con le femmine grava anche le femmine assisi manca del occhi vedi ok ma scelta la più simpatica la vista più simpatica mi sarà tutti antipatiche quindi vabbè la trasforma alcune c'hanno delle facce che proprio mi dicono che cosa gli hanno messo in testa il cipollino in testa c'è vedi questa che c'ha è passato deprimente vabbè la faccia da prendere a schiaffi c'hanno tutte queste vedi questa il naso di dante c'è il naso di dante è bella è bella dai vabbè ti troppo forte ma c'ha una caccia mamma mi allora facciamo così facciamo mi sembra un po quello di prima mi sembra un po cioè non c'è non c'è senso ok facciamo aspetti è troppo forte quella che sta di là va questa qua va la coreana ma mia già quella di prima mi stava molto simpatico il maschio che difficoltà metto dimmi tu facile, principiante è facile metti principiante principiante, no facile facile non vogliamo farlo troppo semplice vai a te l'onore grazie non voglio fare vi avverto, non mi prendete in giro è su serio la prima volta che ci gioco quindi ecco non mi prendete in giro eh infatti anche se non mi conoscono però ecco ma quella non c'ha tette è piatta è coreana infatti si vede che è coreana vabbè va del pugno per sportività con le due almeno per forza eh sì non ho dato un cazzo ma questo è bastardo però sembra che oh aspetta recupero un po' l'energia sembra non lo attaccare sempre eh io sono sempre molto attiva diciamo ma questo è moncola non ci riesco come cazzo ti fa abbassare cioè è frocia allora tu aspetta devi aspettare che si carica la barra così devi stare in energia ma mi dico la vado in ginocchio ma perché non riesco a tirare i pugni non faccio niente ma vieni è moncolo è moncola è moncola è moncola no è moncola il videogioco cioè il tuo che c'è nel mio gioco è il tuo non ciaco che sta dicendo il tuo non lo so il tuo telecomando il tuo tocco infatti solo con te funziona cioè vabbè cerco di coprire di più perché si bello oh come cazzo ho fatto che adesso se non lo so bella adesso mi proteggo di più però si infatti ci sta vedendo stai tutta oh cazzo poi te la rompa il gioco ma vedi quella come se ne fa tocco ma vedi non ci riesco aspetta non ci svegli sai caricare ma guarda come zoppica ma le hanno rotta la gamba ma non manco l'ha colpita la gamba guarda quanto di sangue nella gamba che poi manco l'ho colpita ma dettagli questo si boh non me ne sono accanto ma sta attaccare vedi ma che cacchio ma quella lì non si abbassa mai non l'ho capito si vede che è coreana ma vaffa il culo io non ce tra parentesi non ce l'ho con le coreane vabbè vabbè attaccala attaccala come cosa si fa attaccala è ormai metti bre ma non so come si fa allora quando sta a terra è la via a terra tu premi o quadrato triangolo e ci tiri pugno si grazie me lo dice adesso però si moncola pure tu è vero non ti è mai mettila di attaccare per recuperare ah me lo dice pure il gioco naturalmente mi dice sei scema sei scema ma perché li tira così bassi calci moncola tira con l1 varianza di lui vedi adesso va con le donne con le donne va con i maschi no invece frocio ce l'ha con i maschi è pace si è un gioco contro i maschi comunque siamo più o meno uguali c'è le ferite anche a lei fa male la gamba a lei la gamba e il braccio non attaccare basta primo round primo round sfinite di foglio guarda che bella faccia vabbè sta uccidendo più l'aria comunque più che lei sta uccidendo l'aria si infatti perché sto tirando tutti i colpi all'aria quindi ma perché non so capace ti ho detto non sono buona ma perché quella l'ha recuperato vita io no mi chiamano naturalmente mi chiamano mentre gioco logico dove stai faremo qua aspetta metti in pausa che quando sono buona io mettiamo pausa ok ci siamo si si ma ma questa qua come cacchio ha fatto a prendermi a caso vai rialzati buona 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 vai perché guarda come sta mi sembrava che l'aspettava perché lei dai ammazzava comunque brava brava insisti con i calci brava brava si ma prendi energia non attaccare più difenditi brava vedi che stai capendo eh grazie dopo un po' che le prendo è normale ma va va forse allontana troppo si eh mica scemo vedi che c'è di calci è normale che stanno in due ma devi portocco attenta vai vai rialzati rialzati subito ma vedi come sta aspetta rialzati così brava no si è tolta la cuffia c'è tolta la cuffia si che se frega no come se ne frega non ti sento l'odio si certo sta là la cosa ma non in quel senso ma la cuffia a me è qua cazzo il microfono ce l'hai te addosso boh non me lo spiego un cazzo aspetta scusate per i termini eh 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 tipoh eh perchè non ce l'ho così io non ci posso fa niente non me lo farei se la codia lupo si va bene mi è tanto sto perdendo ma perchè questa sua piccola sua piccola mhm su canti quantaci un po' qualcosa Cosa devo cantare? Caro Checco. Cosa devo cantare? Checco Zalone. Una canzone di Checco Zalone? Vai, vai. Ma cosa vuoi da me? Se anzi che il caffè, tu quando ti svegli la mattina, penso ad aggela, faccio una pipì, faccio la pupù. Vabbè, basta. No, no, tutti ti vogliono sentire, vero? No. No. Tutti vogliamo sentire il nostro caro Checco. No. Quando sono a Tiverio, in quel mondo c'è da, e gente che mi crede, di una stasensità, quando ha gente che mi gioia, quando ha gente che mi attacca, sono perché... E chiamano il telefono. E che palle. E mia madre, che cazzo diverso. E metti pausa. Che palle, figa. Io che non so. Perché? Vai, copri, vieni. Ok, meno male che il primo round, il secondo round, diciamo. Oh, dimmi. No, ma l'hai con buono. L'ha ammazzata, cioè. Eh, meglio, no. Oh, voglio vedere a te, però. Eh, non lo so vedere a te. Va, va, schifta, schifta. Schifta. Oh. Sec. Sebsy. Guardate, eh. Ti picchio. Ma, da, non mi picchia. No, io ti voglio bene. Le coccole, eh, che ecco, capisci. Brava. Chi tocca, che ecco, lo picchio. Se picchi così come picchi così, si mapposi. Sono la sua nuova guardia del corpo. Come picchi così, picchi l'aria. Ma è benissimo. Certo che sei l'ingi. Sì, boh. Scoppia la plena, non è. E' un gesturo. Io lo picchio al joystick. Te lo giuro. Vai. Vai. Ma vieni, non me lo fa mai continuo. Guarda, non me lo comprendi. Allora, non è un battuto. Non è un battuto di joystick. Che è lei che le blocca sti fatti, davvero? Non è colpa del joystick. Ah, ok. Io pensavo fosse mongolo del joystick. Buttons è sano ancora. Non tirare i piedi. Guarda, ti sta ammazzando. Eh, lo so. Ma quel cosa ci posso fare? Vai. Sì, bravissima. Tiraci qualche pugno, tiraci i pugni, tiraci i pugni. Ah, 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 ah. Tira qualche pugno col quadrato, col triangolo. Vai. Sì. Vai, vai, indisti, indisti. Sì, vai, condivano, 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 condivano. Le poppe ti tocca. Le tette che non c'ha, tra l'altro. Le tette che non c'ha. Ma dove diventano? Le tette che non c'ha. Eh, questa è emozione. L'emozione, ragazzi. Per la prima volta, cioè, io registro un video. Agni volta c'è dubbo. Ragazzi, starò con Giovanna una settimana, quindi qualche altro video ve lo porterò con lei, perché veramente sempre sa giocare. Ma alzati! Non si sa giocare, non si alza! Ah, non mi sfottere! Come fa mia sorella? Non mi sfottere, non mi sfottere. Come fa mia sorella? Guarda, mi sa così di più. Ah, sì, non mi sfottere. Basta, non devo tirare più calci. Non mi tirare più! Tipo le mie risposte sexy, ragazzi. Non mi sfottete, grazie. Non mi sfottete. Giovanna si è una cessa. Basta! Ragazzi, scrivete nei commenti hashtag Giovanna non deve giocare. Li apprezzerà molto. No, non è vero. Scrivete questo, vi vengo a cercare. No, non sto scappando. Oh, no, no! Non ti la guardi, non ti la guardi. Copri più. Ok. Almeno ad arrivare ai punti. Dai, mancano 50 secondi. Fai bella figura arrivare ai punti, dai. Fai una bella figura. E non attaccare più! Ma non mi fa nemmeno attaccare! Non riesco ad attaccare! Non mi fa nemmeno attaccare! Non mi fa nemmeno attaccare! Non mi fa nemmeno attaccare! Ma... Ma... Oh! Dei 10 secondi, riesci sti, dai! No, sti sorella resiste. Oh? È vero, tu ce l'hai la sorella, scusa, io pensavo che non ce l'avessi! Non mi viene ricordata! Ma come fa? Che fa? La bicicletta, c'è! Sì, da bicicletta che fa e non si ferma! Madonna mia! Ok, ragazzi, Giovanna ha resistito! Tre round! Cioè, questo è un record! È un record! Tre round ha resistito! Ti metto, ho perso lo stesso! Adesso, andiamo a vedere i punti! Ho perso! Chi ha... Chi ha vito, ma credo che Giovanna non ce l'abbia fatto! Tutto... La vede qui la... La coreana, questa ammessa! Guarda me! Però... Giovanna peggio! Vediamo! Ti prego! Ti immagino se vinco! Se vinci! Ma va, fa anche lui! Immagina puoi! Vabbè, ragazzi! E da un amicicchione! Vabbè! Va bene! Bravo, bravo! Grazie! Allora... Certo! Così come combattuto! Si va a posto! Va bene, ragazzi! Il video può finire qui! Io vi porterò altri video su UFC! Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace! Mol! Cento! Di voi a me! Massimo! Mille! Minimo! Mille mi piace! Tutti per Giovanna! Certo! Perché ci sono stata io! E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto! Mi raccomando! Eh! E mi raccomando! Seguite CiccioGamer su Instagram! CiccioGamer! No CiccioGamer! Beh! Mi confondo! Eh vabbè! Eh! Bene! Beh! Mi confondo! E noi ci vediamo al prossimo video! Bella! Bella raga! Bella!